La sinergia che c'è stata tra l'amministrazione e la Polizia Municipale stamattina ha portato all'aggiunta di questo nuovo tassello fondamentale per il servizio online che è appunto la richiesta e il rilascio dei permessi ZTL. Basta collegarsi nel sito del Comune, qui ci sarà uno spazio digitale dedicato alla ZTL. Il cittadino dovrà accreditarsi con lo speed e poi attraverso vari passaggi guidati da una wizard potrà richiedere e ottenere il rilascio immediato del permesso. Volendo ottenerlo nell'istante stesso in cui fa richiesta basta fare un pagamento online con il Pago.pia altrimenti può stampare il bollettino e pagarlo in seguito presso le banche o le ricevitorie accreditate. In questo senso che cosa si può dire per quanto riguarda i permessi ZTL? Allora è importante che il cittadino sia informato che i permessi ZTL, anche quelli che sono in scadenza in questi giorni sono prorogati fino al 31 di marzo e questo per lo stato di emergenza. Poi valuteremo se il governo deciderà di prorogarlo ulteriormente fino a giugno comunque certamente fino al 31 di marzo i veicoli con permesso di ZTL che al momento sono scaduti possono comunque ancora viaggiare.